Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Il carro del carnevale con Gioacchino Rossini scatena l'opposizione, così diventerà il carnevale di Pesaro Al paese dei balocchi di Fano domani sera arriva Silvestro Montanaro, racconterà la storia di Thomas Sankara Il lungomare di Pesaro torna a rivivere la musica degli anni 50 con la quarta edizione del Festival Vintage Quando Pandolfo III fece un pellegrinaggio al santuario della Madonna del Ponte per ringraziare dello scampato pericolo della peste Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto a tutti voi, buonasera cari telespettatori di Fano TV Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale, un telegiornale chiaramente locale In onda in tutta la regione Marche e parleremo tra poco di eventi, di manifestazioni, di qualche polemica Però non possiamo far a meno di pensare anche a quello che accade vicino a noi, nel resto del mondo e dunque a Barcellona Andiamo però avanti con il nostro telegiornale e parliamo dunque dei fatti di casa nostra E cominciamo dalla notizia che non è passata certamente inosservata e che riguarda il Carnevale di Fano Se ne parla perché questa mattina un quotidiano locale, il resto del Carlino, ha pubblicato una notizia Secondo la quale ci sarebbe in programma un progetto con un carro, un carro del Carnevale di Fano Con protagonista un pesarese, e che pesarese doc, cioè Gioacchino Rossini Questo ha fatto un po' storcere il naso, come tra l'altro abbiamo detto anche stamattina in Rassegna Stampa Qualcuno, tra questi un gruppo di politici che siede nel Consiglio Comunale di Fano E qui rappresentato questa sera da Marianna Magrini di Progetto Fano, capogruppo di Progetto Fano Buonasera Magrini Allora, intanto partiamo da questa notizia che stamattina è apparsa sul quotidiano del resto del Carlino Abbiamo anche le immagini del giornale Rossini sale sul carro, sarà la star del Carnevale Il cigno di Pesaro scelto come attrazione del 2018 E i carristi esporranno anche alla pescheria sempre a Pesaro Allora, voi in un comunicato stampa che avete diramato alle redazioni nel corso di questo pomeriggio Avete scritto Fano, città del Carnevale Ma di Pesaro? Perché? Perché secondo noi non andava assolutamente confusa l'idea Quindi il brand che abbiamo come Fano Che ci riconosce proprio sia nei confini nazionali ma anche oltre Come Fano, città del Carnevale Che deve rimanere comunque la nostra identità Non possiamo andarla a confondere con quella di Rossini Quindi come abbiamo anche detto in precedenza Quando abbiamo visto dell'accordo siglato tra il sindaco di Fano e il sindaco di Pesaro Deve essere un accordo bilaterale a darmi pari E non che Pesaro e quindi diciamo Rossini Nel senso che noi diamo qualcosa a Pesaro Ma Pesaro cosa danno in questo caso? In questo caso Pesaro porta la sua immagine Quindi Rossini all'interno del nostro Carnevale E quindi diventerà comunque un Carnevale Come è stato poi dichiarato oggi Come abbiamo letto sul quotidiano a cui faceva riferimento prima Diventerà poi Fano riconosciuto nell'immagine di Rossini Invece Fano dovrà essere identificata per quello che è il suo evento principale Non si rischia di fare un po' troppo campanilismo in questo senso È vero che il prossimo anno poi c'è una ricorrenza importante per Pesaro, Rossini e quant'altro Non potremmo beneficiare noi di questa cosa in realtà? Ma in questo caso forse Rossini Quindi quello che sarà poi l'anno prossimo Un anno sicuramente emblematico In cui Rossini farà da padrone in tutto il nostro territorio E quindi ben venga Ma sicuramente noi dovremmo invece essere capaci di promuovere il nostro Carnevale Anche oltre i confini di Fano Invece sentiamo parlare di Pesaro, città della musica Pesaro, città dello sport Ma non si è mai allargato i confini del nostro territorio Quindi se noi vogliamo rimanere E mantenere la nostra identità nel Carnevale Dobbiamo essere invece noi che vendiamo Fano, città del Carnevale Anche fuori E non solo Rossini Beh venga Fano Ma anche noi dovremo comunque andare oltre il nostro confine comunale Ecco, i telespettatori Magari anche i turisti che non conoscono Per esempio l'edizione invernale del Carnevale Lo stiamo mostrando in questo momento Sul nostro teleschermo Ecco, adesso a tutto schermo Questo è un Carnevale Tra l'altro quest'anno anche un po' criticato Per i carri che non sarebbero stati un po' all'altezza Delle aspettative Qualcuno si aspettava dei carri ancora più belli Ancora più grandi Però insomma era il debutto di questa nuova Carnevalesca Maria Flora Gianmarioli oggi, sempre nel giornale Ha dichiarato che comunque è soddisfatta di questo accordo Con la città di Pesaro E che sicuramente così facendo Il Carnevale potrà diventare anche un posto dove la gente potrà lavorare Quindi potrà dare posti di lavoro Però certamente letta così di primo acchito Pare proprio che Pesaro voglia fagocitare anche Fano E lo sta facendo anche con la manifestazione che è rimasta l'unica manifestazione di punta della città Quindi il Carnevale Non si poteva, voi lo dite nel comunicato Non si poteva per esempio puntare al posto di Gioacchino Rossini sulla Romanità Fano è una città romana Cioè anche da questa amministrazione abbiamo sentito più volte dire Che volevano puntare proprio sulla Romanità Questa cosa invece Prima abbiamo abbandonato completamente l'idea della Fano dei Cesari Che poteva comunque essere l'evento principe se vogliamo parlare di Romanità Allora andiamo avanti con il Carnevale Che è l'evento di punta che ci è rimasto Un evento che capiamo benissimo Anche da come ha detto proprio la Presidente Gian Marioli È un evento molto oneroso per l'ente carnevalesca Quindi benissimo collaborazioni Ma devono essere collaborazioni a darmi pari Non possiamo fare venire e rendere partecipe E quindi il protagonista del Carnevale Rossini Il Carnevale deve rimanere il protagonista della nostra manifestazione Ok, prima faceva riferimento a un accordo Tra il Sindaco di Fano Massimo Seri E quello di Pesaro Matteo Ricci In effetti, e qui lo facciamo vedere anche a coloro che magari non se lo ricordano Questo è un accordo ufficiale Che è stato fatto qualche settimana fa Nella Sala della Concordia I due sindaci di Pesaro e Fano Proprio per iniziare una serie di strategie comunicative Non solo, insomma Quindi, però, insomma Visto lo strapotere che ha Pesaro in questo momento Noi siamo un po' l'anello debole di tutta questa piccola catena Ma che comunque Perché poi tra l'altro nel progetto ci sarebbe quello di inglobare anche Urbino Di fare una sorta di triangolo Quando parliamo di turismo e cultura Certo, parlare di Fano-Pesaro-Urbino Forse anche in questo caso Dico anche perché Anche in altri argomenti purtroppo è successa la stessa cosa Siamo arrivati tardi Cioè siamo arrivati al punto Dopo tre anni di amministrazione Dove Pesaro si è promossa a livello nazionale Oltre confine Per tutte le sue peculiarità Mentre Fano siamo rimasti comunque Indietro rispetto a questo gigante Che ora lo vediamo comunque Così lontano da noi Forse se tre anni fa si partiva insieme Si promuoveva un territorio E quindi sia le eccellenze di Pesaro Insieme alle eccellenze di Fano Probabilmente avremmo potuto viaggiare ad armi pari Questo doveva essere un accordo bilaterale Ad armi pari proprio E non solamente che noi chiediamo in questo momento Aiuto Pesaro per cercare di andare un po' dietro Quella che è la scia che stiamo vedendo Di Pesaro ricca di eventi A livello sportivo Ma certo Pesaro non sta sbagliando un colpo In questi ultimi anni Forte anche del fatto che ha un sindaco Come Matteo Ricci Chiaramente Sicuramente si è saputa promuovere A livello nazionale benissimo Forse noi se continuiamo a partire Con la promozione degli eventi estivi Alla fine di luglio Non riusciamo sicuramente a stare dietro Quello che invece fanno i nostri vicini di casa Bene, grazie a Marianna Magrini Grazie a voi Di Progetto Fano Naturalmente forse è il caso di dire anche che questo Questo comunicato è firmato da tutti i consiglieri dell'opposizione Dagli altri gruppi La tua Fano, Forza Italia e Udc Ok, grazie ancora Grazie a voi Noi andiamo avanti con il giornale C'è la crona che è stato convalidato dal magistrato di Treviso Il fermo della donna Moldava Poco più che trentenne Che il 13 agosto scorso a Pesaro Avrebbe gravemente ferito Con una coltellata alla gola il compagno romeno Durante un violento litigio La donna è stata rintracciata Dai carabinieri nell'aeroporto di Treviso Dove stava per imbancarsi Su un volo diretto a Londra Ed ora indagata per tentato omicidio aggravato E qui cominciamo adesso la pagina Un po' degli eventi e delle manifestazioni Partiamo da Montegridolfo Liberata Un'iniziativa che si è conclusa qualche giorno fa E che ha avuto un grosso successo di pubblico Grande successo di pubblico per l'ottava edizione della Montegridolfo Liberata Manifestazione storico-rievocativa e culturale Che per l'ottavo anno si è svolta a Montegridolfo Caratteristico e storico comune della provincia di Rimini Che grazie all'eroica operazione del tenente sudafricano Gerard Norton nell'agosto del 1944 È stata liberata dall'occupazione tedesca L'associazione dei Green Liners Che ha partecipato fattivamente alla manifestazione Con la presenza di ben oltre 70 friguranti Provenienti dal centro Italia Tra cui Marche, Umbria, Toscana Nonché Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia In perfetta divisa militare inglese, tedesca e canadese Hanno contribuito notevolmente allo svolgimento della battaglia Nella giornata di sabato Con l'assalto al crinale di Montegridolfo E per la giornata di domenica Alla liberazione del borgo Con la conseguente espulsione dal castello Delle milizie tedesche Grande anche la partecipazione di pubblico Nel corso delle tre giornate Con la presenza di oltre 3.000 persone La manifestazione è stata resa possibile Grazie all'amministrazione comunale, alla Proloco E all'associazione storico-rievocativa The Greenliners Niente nido o materna Per chi non è vaccinato Anche se i genitori pagano la multa Mentre chi vuole che il proprio figlio sia esonerato Deve chiedere un certificato che attesti il pericolo Dell'immunizzazione al pediatra A meno di un mese da rientro in aula Una serie di circolari del Ministero della Salute E del MIUR Fanno chiarezza su alcuni punti dubbi Della legge sull'obbligo vaccinale La prossima settimana a Fanno Si terrà la quarta edizione del Palio delle Contrade L'ormai tradizionale rievocazione storica Del pellegrinaggio che Pandolfo III Compì nel 1399 da Rimini a Fanno Recandosi al santuario della Madonna del Ponte Ponte Metauro Per essere sopravvissuto alla peste Anche quest'anno diamo inizio agli eventi collegati al Palio delle Contrade Con una conferenza Che invitiamo tutta la città Domenica sera 20 agosto alle ore 21 Presso la cattedrale in Duomo a Fanno Abbiamo studiato con gli amici della cappella musicale del Duomo Insieme alla diocesi e ai beni culturali della diocesi Un evento che possa raccontare le origini dei Malatesta E le origini della cappella musicale del Duomo È un evento per noi molto importante Che è da inizio al Palio delle Contrade Quindi vogliamo invitarvi a partecipare Perché ci teniamo particolarmente Il concerto che ha curato la cappella musicale del Duomo di Fanno È dedicato soprattutto alla musica medievale e rinascimentale Perché la cappella musicale della cattedrale Ha un legame forte con Pandolfo III Malatesta In quanto lui stesso fece dono alla cattedrale di un organo Che ha dato il via E ha incentivato di molto le attività corali dentro la chiesa La nostra partecipazione a questo evento riguarda soprattutto la presentazione di una tavola La parte centrale di un politico che dovrebbe essere il politico che Pandolfo III Malatesta Regalò alla cattedrale agli inizi del Quattrocento Una Madonna con bambino Un lavoro interessantissimo, bello da vedere Questi saranno gli argomenti che toccheremo, diciamo, oltre a cenni storici Che toccheremo nell'ambito della serata Serata che avrà inizio alle ore 21 e 15 nella cattedrale A Falconara Marittima scatta il conto alla rovescia per il Summer Carnival Che animerà la rinile di Falconara appunto sabato prossimo Sulla spiaggia cittadina si svilupperà un vero e proprio carnevale estivo Una maxifesta in maschera che vedrà in gara per Summer Carnival Tutti gli stabilimenti balneari, i bar e i ristoranti in spiaggia Ogni balneare avrà un tema al quale dovranno conformarsi le maschere Che sfileranno sulla sabbia Sarà poi una giuria popolare presieduta da Migliano Cionna A decretare i vincitori In serata infatti si svolgeranno le premiazioni Seguirà il concerto di musica anni 70 e 80 dei Miuri E quindi il carnevale estivo a Falconara Mentre festa dal sapore brasiliano sul lungomare di Pesaro Dove si terrà Copacabana per una serata speciale dal sapore brasiliano Martedì 22 agosto in Piazzale della Libertà Il piazzale si trasformerà nel lungomare di Copacabana Lo splendido quartiere di Rio de Janeiro Famoso per la sua spiaggia Con l'atmosfera tipica latina e divertimento puro a 360 gradi Proponendo travolgenti balli brasiliani Live band e DJ 7 Al paese dei balocchi invece domani sera Domani sera Silvestro Montanaro Ex giornalista della RAI Che dopo l'elezione a sindaco Racconterà la storia di Thomas Sankara Sankara è stato il presidente di uno degli stati più poveri del mondo Il Burkina Faso Dal 1983 al 1987 Anni in cui lottò per cercare di tagliare gli sprechi statali Ed eliminare i privilegi delle classi agiate Atteggiamenti che gli valsero l'appellativo di presidente ribelle E molto probabilmente lo portarono anche alla morte A San Lorenzo in campo invece sarà una serata di emozioni forti Da non perdere Quella che domenica prossima vedrà il mosaico di scena San Lorenzo in campo Dopo il rinvio per pioggia dello scorso giugno La benda acustica dell'autore dei Nomadi Marco Petrucci sarà finalmente in concerto nel giardino dell'Ai Caffè di Via De Leda L'Accordi e Ricordi Tour 2017 vede il trio marchigiano impegnato in una intensissima stagione live Partita lo scorso marzo con oltre 50 date tra locali e piazze Durante la serata si potranno ascoltare le musiche più belle di grandi cantatori Non solo come De Andrè, Fossati, Vecchioni, Caposella, Battisti e De Andrè E poi ancora Bertoli e Dalla ma anche tanti tantissimi altri E sempre a Pesaro nel lungomare pesarese c'è Torna a rivivere la musica splendida degli anni 50 e 60 Con la quarta edizione del Festival Vintage Come On Sabato 19 e domenica 20 in Piazzale della Libertà di Viale Trieste Si alterneranno live band, DJ set, show e stage gratuiti con scuole di ballo, spettacoli, burlesque e animazioni con Church Leaders Si ballerà con la band 60 lire ricordando i migliori brani italiani degli anni 60 Ancora swing e rock and roll con All and the Boys and the Rockets Band Inizia questa sera nella chiesa del suffragio in centro storico a Fano La rassegna i segreti del suffragio tra fede, arte, musica e cultura In programma alle ore 21 il primo appuntamento dal titolo Diplomazia Vaticana Il relatore sarà il fanese Monsignor Giovanni Tonucci, 76 anni, che ha da poco lasciato l'incarico di arcivescovo prelato di Loreto Dopo aver trascorso in precedenza 18 anni come nunzio apostolico Prima in Bolivia, poi in Kenya, poi in Svezia, nunzio anche in Finlandia, Norvegia, Danimarca e Islanda Sarà lui insieme all'autore di questo libro a presentare al pubblico il volume La Diplomazia Pontificia Opera di Massimo Cantori, giovane giurista di Osimo Nei giorni scorsi vi abbiamo fatto vedere un servizio dove c'erano le mura del Pincio I giardini Roma completamente ripuliti dalle scritte, quelle odiose scritte con le bombolette spray Vi abbiamo fatto vedere tutte le mura ripulite, è una bellezza Un nostro reporter di strada però poco fa ci ha inviato questa fotografia che adesso vi mostriamo Eccola qua, già la prima scritta La scritta è Albania, campeggia, in bella vista, su tutto il Pincio E questo è Tra poco, dopo di noi, box, poi in cucina con lo chef e uno speciale su un albergo L'albergo Biancaneve Questo invece è il numero di telefono per le vostre segnalazioni Grazie per aver seguito il nostro telegiornale Ci rivediamo domani mattina alle 7.30 con la rassegna stampa in diretta Occhio e giornale, arrivederci Grazie per aver guardato il nostro canale